Per tutta la mia vita ho parlato dell'isola che risplende, ma non so se hanno mai capito quello che io vedevo esattamente. Un'isola con un porto libero, aperto a chiunque avesse il desiderio di entrare. Si chiama Nur ed è Siriana, però non credo che i genitori siano qui. Noi stiamo cercando di rintracciare la madre di questa bambina. Sa che c'è che ognuno di noi vive come dentro una cella, e ti faccio riuscire se qualcuno non ti aiuti. Ho visto di tutto qui a Lampedusa. Quei poveracci non hanno niente, solo fame e il loro corpo. Vivere per pagarsi la morte.